musica adesso siamo qui per fare appunto l'estrazione del contest questa volta come avevo detto appunto nel video del contest ci saranno due vincitori per dare più speranza a tutti quelli appunto che hanno partecipato a questo contest vi ringrazio comunque sia tutti per i mille e nove partecipanti alla fine perché abbiamo appunto raggiunto più di mille e nove partecipanti quindi raga vedremo un po' adesso chi è il vincitore di questo contest utilizzando sempre appunto youtube random comment picker io raga prima di iniziare vi ricordo di lasciare questo video per supportarmi e di iscrivervi al canale se non siete ancora per non perdere i prossimi video mi raccomando raga lasciate tantissimi like se volete altri contest quindi se vedrò che il supporto è tanto sicuramente raga farò altri contest quindi raga mi raccomando lasciate tantissimi like e adesso possiamo iniziare subito con l'estrazione come sapete benissimo io faccio sempre l'estrazione utilizzando questo random comment picker per il semplice motivo che appunto come avevo detto già negli scorsi contest suadeo ha smesso di funzionare quindi non ci sarà più il suadeo.ch che ci siamo sempre abituati e che diciamo quello più famoso ma appunto andremo a utilizzare questo youtube random comment picker adesso ho incollato l'url del video come potete vedere appunto l'ho incollato e adesso andremo a caricare tutti i commenti che sono raga più di mille e nove commenti cioè raga tutti quanti che avete partecipato io volevo veramente ringraziarvi tutti quanti per il supporto e comunque sia per aver partecipato diciamo a questo contest sta finendo raga ci manca veramente poco quindi adesso appunto aspetteremo che finisca ed eccoci qua raga quasi finito bene ha finito quindi utilizzando il pulsantino randomly pick winner andremo a scoprire il vincitore di questo contest i due vincitori di questo contest mi sbaglio sempre perché non ho mai fatto vincere due persone quindi il primo vincitore di due account moddati è vediamo un po' xdan che ha scritto partecipo ps4 adesso andremo a vedere appunto se il suo diciamo le sue iscrizioni sono pubbliche vediamo un po' ha caricato un video ha caricato un video ha caricato un video mi sa di no mi sa che appunto non ce la pubbliche però comunque sia raga appunto lui è il primo vincitore del contest dell'account moddato quindi congratulazioni xdan per aver vinto quindi ti manderò appunto un messaggio privato su youtube e semplicemente potrai anche commentare qui sotto scrivendo appunto il diciamo il tuo nome facebook così ti contatto lì che è molto meglio perché qui su youtube è un po' difficile comunque appunto ti contatterò su facebook appena mi dai appunto il nome in giù nei commenti andremo a scoprire raga il secondo vincitore di due account moddati che il secondo vincitore è aldo ganci che appunto ha vinto due account moddati per ps3 quindi avrà la scelta se moddare il suo personaggio diciamo già esistente di ps3 e moddarne un altro oppure farne due nuovi perché comunque se è ps3 raga comunque si apposto moddarlo tranquillamente quindi nulla questi sono i due vincitori dell'account moddato quindi aldo ganci e xdan hanno vinto questo contest mi scuso raga veramente tantissimo per tutti quelli che non hanno vinto questo contest ma è davvero molto difficile poter vincere due account moddati state tranquilli raga che molto probabilmente ci saranno altri contest anche grazie al vostro supporto quindi mi raccomando raga lasciate tanti tanti like per altri contest per dare appunto speranza a più persone io raga sto facendo pochi contest ultimamente perché comunque sto appunto aspettando un po' tra un contest e l'altro perché non è che posso fare tutti i video un contest però appunto se vedrò che questo video raggiungerà molti like molto probabilmente raga vedrete altri contest sul canale quindi nulla spero che questo video raga vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare un piacere questo video per supportarmi e di iscrivervi al canale se non siete ancora per non perdere i prossimi video passate un altro profilo instagram e una pagina facebook dove trovate giù il link in descrizione quindi nulla noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da fox sound bella